La tua mente è il tuo livellimento, sì o no? Perché l'hai resa tua nemica? Rancore, rabbia, odio... Questi sono tutti i veleni che bevi e ti aspetti che qualcun altro muoia. La vita non funziona così. Fai qualcosa per questo. Aggiusta questo prima di entrare nel mondo. Una volta Shankaran Pillai aveva... Perché state ridendo della malattia di qualcuno? Non va bene. Shankaran Pillai aveva una tubercolosi cronica. Tubercolosi. Andò dal dottore. Stava peggiorando da molto tempo, ma era diventato un problema troppo grosso. Quindi andò. Il dottore fece una radiografia e guardò. Dei grossi buchi nei polmoni. Disse... Devi essere... ricoverato in ospedale immediatamente. E... Ci vuole un piccolo intervento. E... Devi stare in ospedale minimo sei mesi. e ti costerà... 50.000 dollari. Shankaran Pillai disse... No. No. Neanche per idea. 50.000 dollari di sicuro non li ho. sei mesi. Sei mesi neanche per idea. Posso darle 100 dollari. Cosa può fare? Ora. il medico lo esaminò. Esaminò la radiografia. Lo esaminò. Esaminò la radiografia. Disse... Bene. Per 100 dollari potrei ritoccarti la radiografia. è possibile che... potresti aver causato un danno fisico al tuo sistema. Un disturbo. a causa dei tuoi schemi di pensiero. Alquanto possibile. Perché sei un essere psicosomatico. Qualsiasi cosa succeda nella mente inevitabilmente succede nel corpo. Ma una volta che il danno si è manifestato nel corpo fisicamente cercare di mandarlo via con il pensiero potrebbe essere solo una pia illusione. Non dico che non sia affatto possibile. Ma dopo tutto hai solo una vita. Non prendi un rischio simile. Sì, vorrei supportarlo anche con il tuo processo di pensiero. Ma... no, semplicemente mi siederò e lo manderò via con il pensiero. Potresti mandare via te stesso con il pensiero. Sai? Quindi non provare queste cose. Malattia o no? Disturbo o no? Non hai il diritto di combinare un disastro con la tua mente. Non hai diritto di torturare questo essere. Che ti venga un disturbo o non ti venga un disturbo è il passo successivo. Ma non hai semplicemente il diritto di torturare questo essere. Perché questo è in un certo senso è un essere indifeso. Vedi, se adesso ti rincorro con un ferro bollente cercherai di scappare. Chiederai aiuto. Puoi fare tutte queste cose. ma supponi di prendere un ferro bollente e di iniziare a colpirci questo. Dove scapperai? Persino se sei un bambino puoi ancora avere qualche difesa. Sì? Anche un bambino di 5-6 anni ha qualche difesa. Non è vero. Ma questo. Nessuna difesa. Qualunque assurditato faccia questo. Deve semplicemente subirla. Nessuna scappatoia. Quindi è come torturare un feto intrappolato dentro. Ora inizi a colpirlo. È proprio così. Sì. La forma più crudele di tortura. La più crudele che tu possa fare è l'autotortura. Perché è un essere totalmente indifeso. Tutti gli altri per quanto indifesi siano hanno qualche difesa. Non è così? Sì. La persona più debole può accoltellarti quando sei profondamente addormentato. Sì o no? È successo. Non è vero. Qualcuno è debole. Hai continuato a colpirlo. Un giorno mentre dormi sono venuti a colpirti. Possono fare qualcosa. Anche una persona molto debole anche un bambino può farti qualcosa. Ma questo. Completamente indifeso. Quindi non hai nessun diritto di torturare questo. Che tu abbia un disturbo o non abbia un disturbo. Se hai già un disturbo se lo hai già portato così avanti da aver causato danni al sistema è meglio che venga assistito in tutti i modi possibili. Sì. Decisamente devi interrompere le tue assurdità. Ma se il sistema ha bisogno di medicina e chirurgia questo, quello qualsiasi cosa sia necessaria deve essere fatto. Cercare semplicemente di mandarlo via con il pensiero. Siccome lo hai fatto venire con la mente non pensare di poterlo mandare via con la mente. Possibile. Non sto dicendo del tutto no. Non posso dire che sia no al 100%. È possibile. ma non provare cose del genere perché potresti mandare via te stesso col pensiero. Una volta che supera un certo punto allora nessuno può aiutare. Non è vero. Sì. Persino i coeduttori si arrendono a un certo punto. O no, non lo fanno. le uniche persone che non si arrendono sono quelli dell'assicurazione. Tutti gli altri si arrendono a un certo punto. Le uniche persone che non ti abbandonano sono quelli dell'assicurazione perché sai io no. Quindi mantenere la tua mente amica della vita è decisamente compito tuo. La tua mente dovrebbe essere amica di questa vita. Non è così? Dovrebbe funzionare per questa vita. Dopotutto la tua mente è il tuo dipendente. Sì o no? perché l'hai resa tua amica? Se non sai come gestire le persone che lavorano per te diventeranno poi nemici. Non avere nessun fraintendimento su questo. Non avere nessun dubbio su questo. Succede, non è così. Se non tratti bene i tuoi stessi bambini diventeranno poi nemici. No? Hai qualche dubbio? No, mio figlio non farà questo. Non avere alcun dubbio lo farà. Se non lo tratti bene diventerà tuo nemico. Sì o no? Sì o no? È così che la vita è? Ora, perché la tua mente una cosa così potente bella miracolosa è diventata tua nemica. Questo è qualcosa che dobbiamo osservare. Che tu abbia un disturbo o stia per avanti. In entrambi i casi è ora che tu lo osservi. Non è così? non dovresti lasciar passare il tempo perché fare entrare le malattie con il pensiero e mandarle via con il pensiero non è divertente. Costerà vita. Una volta che hai un disturbo diventa un impegno a tempo pieno. Non avrai alcun altro lusso di sederti e ascoltare un discorso spirituale come questo. porterà via ogni cosa. Starei seduto in fila all'ospedale. Sì o no? Non è divertente. Sì? Non è divertente. Finché non ci arrivi non realizzi quanto sia brutto. Voglio che voi tutti per quanto sani siate una volta al mese facciate un giro di un grande ospedale nella vostra città. Dovete farlo davvero. Dovete andare a vedere non per qualche piacere perverso ma dovete vedere cosa può succedere agli esseri umani. Solo piccole cose sbagliate. Questo è tutto. Non hanno commesso nessun grande crimine. Stavano solo creando ogni giorno un po' di acido nel loro stomaco. Guarda dove li ha portati. Se gestisci tutto bene comunque sai la dannata zecca potrebbe entrare in te e causare problemi. Chi lo sa? E cause problemi chi lo sa? Sì. Hai gestito tutto bene non importa. Sei entrato in un aereo pensi che siano tutte persone ma l'influenza suina ti ha colpito. Qualcuno è un suino qui, non lo sai. Se fai tutto bene comunque ci sono milioni di problemi. non è così? Non è così? Sì? La natura della vita è tale che anche se bevi del latte potresti avvelenarti ma se parli di bere veleno e vivere bene tanti auguri. Posso dire solo questo. Non è così? se mangi del buon cibo può diventare veleno nel tuo stomaco. È possibile. Se mangi le cose migliori possono diventare veleno. Vuoi mangiare veleno e vivere bene? Posso solo augurarti fortuna. perché non c'è altro modo che una persona così. Non è vero? Stai producendo veleno e speri di vivere bene. Oh, hai bisogno di molta fortuna. Dobbiamo disporre tutto il tappeto di stelle in una linea dritta per te. Tutte le stelle allineate per te altrimenti la vita non funzionerà per te. Ti prenderà. Quindi, per favore, mantieni la tua mente allineata. dovrebbe lavorare per te. Dovrebbe fare cose meravigliose per te. Non cose brutte. Perché la tua mente sta facendo cose brutte? Quindi, ora, non la sopporto, non la sopporto. Se sviluppo risentimento, risentimento, rabbia, odio, questi sono tutti i veleni che bevi. E ti aspetti che qualcun altro muoia. La vita non funziona così. se bevi il veleno e muori solo tu, non qualcun altro. La odio, la odio, la voglio morta, la voglio morte. Solo tu muori, non lei. Non è vero. Bevi il veleno e ti aspetti che qualcun altro muoia. non funziona così. Quindi, devi sistemare questo. Se la tua mente funziona contro di te, innanzitutto, la prima cosa che fai è ti prendi una pausa da tutte le dannate cose che stai facendo. Non importa cosa stai facendo. Capisci? Il tuo lavoro, la tua famiglia, la tua assurdità, prenditi una pausa da tutto. Vai in un posto adatto. Se vuoi, puoi venire qui, o andare in India, o da qualche altra parte. Comunque funzioni per te. Fai qualcosa per questo. Aggiusta questo prima di entrare nel mondo. Quindi, siediti in un posto. Vedi cosa puoi fare per questo. Perché una volta che vivi in questo mondo, o devi fare qualcosa di buono per te stesso, o devi fare qualcosa di buono per dieci persone intorno a te, o devi mantenere te stesso davvero gioioso e divace, non ti preoccupi di nessuno, non importa. Almeno sei felice. stai bene. Oppure, fai qualcosa di buono per qualcuno intorno a te. Stai bene. Chiunque non stia facendo niente di buono per se stesso, o per qualcuno intorno a sé, non ha davvero nessun diritto di chiamarsi umano. Non è così. Quel tanto di intelligenza e di consapevolezza, la natura l'ha messo in te. Non è così? Sì. Forse non puoi fare qualche grande azione nel mondo. Non importa. Almeno cammina con delicatezza su questo pianeta. Questo lo puoi fare, giusto. Sì. Forse non puoi andare a servire il mondo intero. Non importa. Almeno cammina con gioia. Se cammini con gioia su questo pianeta, all'improvviso vedi tutto il mondo sembra bello. una volta che tutto il mondo sembra bello, naturalmente, poserai uno sguardo, uno sguardo amorevole su ogni cosa. È un processo naturale. È così? Se cammini qui con gioia, qualsiasi cosa tu guardi sembra bella. una volta che ogni cosa ti sembra bella, posi naturalmente uno sguardo molto amorevole su ogni cosa che vedi. Sei un essere benedetto. Ci vuole solo questo. E se non sei così, non è tempo di prenderti una pausa e lavorare su te stesso. No, no, sto facendo qualcosa di importante. Non stai facendo niente di importante. Perché in ogni cosa che fai, chi sei troverà espressione. Non è vero? Non sono le tue stupide e buone intenzioni che troveranno espressione. Chi sei troverà espressione in ogni cosa che fai. se hai del vereno nella testa, con delle buone intenzioni infonderai il vereno nel mondo. È questo che sta succedendo nel mondo. Accadono più danni in questo mondo con buone intenzioni che con cattive intenzioni. Non è così? Nel 1934 Adolf Hitler fece un discorso ad Hamburgo e disse sto facendo il lavoro dei miei antenati. quando le persone gli chiedevano perché radunava delle persone per mandarle alle camere a gas. E voglio che tu capisca. Credo che non stesse in tempo. Ci crede. Questa è la cosa più pericolosa. Non è un bugiardo. Crede in ciò che sta facendo. È questo che ha reso potente quell'uomo. in breve tempo come organizzò l'intera nazione e fece sì che tutti credessero in quello a cui credeva. Non è un'organizzazione semplice. Un'organizzazione fenomenale. Non è vero? Perché quell'uomo ci crede al 100% e crede di fare la cosa migliore. La cosa migliore che possa essere fatta per il mondo. Quindi le tue buone intenzioni non salveranno il mondo. Come sei e come sei cambierà solo se puoi respirare, camminare, sdraiarti, sederti con gioia. Se non puoi fare quest'unica cosa ogni altra cosa sarà solo veleno qualsiasi cosa tu faccia. Solo quando sei piacevole dentro di te ti senti piacevole verso ogni cosa intorno a te. Solo quando ti senti piacevole verso ogni cosa intorno a te ti muovi con un certo buonsenso e valore per la vita intorno a te. Altrimenti non importa quanta morale porti in te, quante scritture ricordi, troverai modi per fare le cose più crudeli possibili. Quindi il compito principale e più importante la prima responsabilità di base per un essere umano è come hai seduto qui. sei seduto qui con gioia sei seduto qui con qualche sofferenza che viene fabbricata nella tua testa. Questa è la cosa principale di cui ti devi occupare solo dopo tutto il resto perché altrimenti nient'altro funziona veramente. Per favore vedilo ogni volta che ti senti molto infelice sempre arriva il pensiero vuoi porre fine alla tua vita non compi l'azione ma il pensiero arriva non è così? Sì o no? Trova questo per 24 ore rimani nell'infelicità ti intrattieni sempre con la televisione o un libro o un amico o qualcosa non farlo per 24 ore semplicemente rimani nell'infelicità entro 24 ore ti verranno dei seri pensieri di volere porre fine alla tua vita di sicuro perché nessuno può sopportare l'infelicità per più di alcuni minuti per più di alcuni minuti hai bisogno di una distrazione altrimenti diventerai matto non è vero? capire l'infelicità non funziona non è il modo di condurre la vita qualunque possa essere la tua situazione di vita qualunque dico qualunque cosa possa succedere nella tua vita forse quando sei venuto al Satsang hai caricato tutto nella tua macchina e sei venuto e non hai nessuna casa a cui tornare forse se vieni dal Michigan non tu ok non tu forse qualcos'altro ci possono essere molte cose nella vita qualsiasi cosa possa essere stai meglio di quando sei nato non è vero? sei giunto con niente almeno hai qualcosa sei dalla parte del profitto guarda la bellezza della vita sei giunto completamente senza niente qualsiasi cosa possa succedere sei comunque un profitto non un perdito quindi non puoi lamentarti non è così quindi non cercare di mandare via la malattia con il pensiero manda via l'infelicità con il pensiero se mandi via la tua infelicità con il pensiero disturbo o non disturbo vedremo l'infelicità 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 l'infelicità